Asciugona Il filetto d'ansia Quell'odore tipico nei corridoi Le facce preoccupate Insomma un ambiente dove non mi sono mai sentita Granché a mio agio Che comunque credo capiti un po' a tutti Non mi è mai capitato di sentire Oh che bella giornata vado a farmi un giro al San Camillo Però ecco non mi sono neanche mai stati chiari I meccanismi dell'ospedale Accettazioni, coup, ticket da pagare Esenzioni Impegnative, sportelli, reparti Ambulatori Cioè dove devo andare A chi devo chiedere Qualcuno mi indica al nord Chi sono io E poi tutte quelle attese Tutte quelle attese Le mezzogiornate seduti su ste sedie di plastica Mezzerotte Un po' a fissare i buchi nel muro Perché ci sono sempre Un po' a controllare i numerini che scorrono Sullo schermo e il tuo Ben lungi dall'arrivare Cioè la serie che arrivi in ospedale e ritiri il ticket Non vedi nessuno Tac, 102 Ma dove sono tutti? Infermiere che sbuffano Pazienti che si lamentano Insomma sempre un bellissimo clima in ospedale Ebbene però l'animale uomo è così Perché poi quando una cosa ti serve Tutto cambia Infatti quel posto L'ospedale Oggi è la mia seconda casa Quelle facce grigie e preoccupate Sono la mia famiglia Ho imparato a ingrigirmi anch'io appena metto piedi in accettazione Come i camaleonti no? Assumo la gradazione delle pareti circostanti Sono giallina in accettazione Verdognola in ginecologia Grigiolina in ambulatorio Ormai mi muovo come un ninja Su e giù per l'ospedale E riesco anche a dare indicazioni e consigli ai meno esperti Ginecologia? Privata o SSN? Scala B terzo piano Ah lei ha appuntamento con la dottoressa Casati? È passata dal CUP prima Signora per il ritiro dei referti Deve recarsi all'altro padiglione Sono di famiglia Mi conoscono tutti E io chiamo per nome tutti Ad esempio se appena arrivo E ritiro il mio numerino dalla macchinetta Capisco che probabilmente mi toccherà lo sportello 4 Sportello 4 dove c'è sempre il signor Vincenzo Quello con gli occhialini e la patacca di sugo sul maglioncino Aspetto e piuttosto vado a un altro sportello Perché so che al signor Vincenzo non funziona la stampante In realtà il signor Vincenzo ha segnalato il guasto mesi e mesi fa Ma non gliel'hanno ancora mai cambiata Quindi cosa fa? Se deve stampare una ricevuta Si rivolge alla Lidia dello sportello 5 Però così si perde sempre un sacco di tempo Comunque pensavo male 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 che mi va Un posto in accettazione io lo troverei Lo schema di questi mesi è stato all'inizio un po' ripetitivo Un controllo ginecologico al mese E analisi del sangue e non solo una volta al mese Ma poi andando avanti La trama delle mie settimane è diventata più avvincente Dell'ultima stagione di This Is Us Il vaccino anti-influenzale Il vaccino contro la pertosse La visita anestesiologica per l'epidurale Il corso preparto Il giro in consultorio L'incontro con l'ostetrica La pressione in farmacia Il tampone vaginale E la visita di gravidanza a termine Ho un'agenda fittissima e non mi annoio mai Non ho neanche tempo per vedere gli amici Perché tendenzialmente sono dal medico della mutua A chiedere l'impegnativa per fare tutte queste visite che ho appena detto A volte per ottimizzare Do appuntamento alle mie amiche nella sala d'attesa del medico della mutua E ci beviamo un caffè lì che è pure buono Ma che culo che è spuntato il coronavirus Proprio 20 giorni dal parto Ma si può essere più fortunati di così? Mica avrei voluto passare l'ultimo mese di gravidanza in serenità Pirlona! Che noia! Comunque io non sono per nulla preoccupata al coronavirus Anzi sono serenissima E grazie a Dio ho una famiglia che non fa nulla per alimentare questa psicosi Non mi telefona due volte al giorno e non mi ripete neanche una volta che non devo uscire di casa Era proprio così che io mi immaginavo gli ultimi giorni da gestante Isolata dal mondo esterno e senza vita sociale Assurdo perché tutto questo me lo immaginavo per dopo Per una volta che sarebbe nato il bambino Ragazzi dalla quarantena è tutto Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana Nuovo podcast dal titolo Gravidramma Sapete già di cosa sto parlando Ciao Sì? Mamma?